domani fissate le visite mediche per Cop Meners ben ritrovati amici bianconeri un saluto dal vostro BJ 52 milioni più 7 di bonus e Cop Meners sarà un nuovo giocatore della Juventus accordo raggiunto andremo ad approfondire bene quello che è successo perché amici bianconeri amici del calcio non prendetevela con me quando ieri avevo dato chiesa al Barcellona e questo è stato tutto l'affare l'ha veramente chiuso e dopo è saltato questo di Cop Meners è un affare già concluso accordo tra giocatore e le due società già le visite mediche pronte ma metto un grande ma si aspetta l'ufficialità si aspetta che Cop Meners si metta i piedi al J Medical che sia chiaro iscrivetevi al canale perché è totalmente gratuito sono sempre qui pronto a darvi le notizie sulla nostra Juventus e difenderla lasciate con like e commentate e attivate la campanellina così non vi perderete mai un video e siamo sempre live per lei se non cede bene madame messia e signore e signori me signori quelli veri quelli gobi bianconieri della vecchia signora rieccoci qui un giorno sì un giorno io penso che oggi sarà un giorno bruttissimo per gli interisti perché con l'arrivo di Cop Meners e ragazzi miei io lo devo dire non voglio esaltarmi ma questa Juve sta diventando troppo troppo forte ieri la Juve ha vinto ha stravinto una partita contro un Verona che aveva stravinto contro il Napoli ragazzi con dei giovani media di età 22 anni in quella Juve di ieri il più grande forse del portiere 26 anni se non sbaglio correggetemi ragazzi qua si sta parlando che la Juve ha preso Nico González ha preso Conce Sao abbiamo Thuram ragazzi sta arrivando Cop Meners ma questa Juve quando sta diventando veramente forte a questo punto qua ragazzi io penso che la Juve non dico che vince la Champions la vincerà ragazzi ma possiamo tranquillamente competere questa qua sta diventando una grandissima Juventus io penso che possiamo lottare per lo scudetto a testa alta forse di più ancora più alta la testa ma voglio sempre ribadire ragazzi e ve lo dico perché non voglio essere un giarlatano che a me non mi piace aspettiamo l'ufficialità aspetto che Cop Meners domani metta i piedi al G Medical e io posso fargli delle riprese e riprenderlo e poi mostrarvelo lì veramente allora dirò sì è Cop Meners è lui però ragazzi miei già da oggi penso che la Serie A può iniziare a tremare per questa Juve sta diventando troppo forte io penso che oggi abbiamo uno dei migliori allenatori d'Italia abbiamo una delle migliori difese stiamo facendo un centrocampo stratosferico ragazzi poi davanti se questo è Vlaovic che inizia a segnare io ve lo dico prima carissimi interisti scansatevi perché la Juve sta arrivando anche se tornando al discorso di ieri abbiamo sempre un sistema contro abbiamo sempre un barre che fa il cecchi perfino quando i giocatori della Juve a fine primo tempo vanno a fare pipì per dirvi la Juve quando deve essere forte per vincere questo scudetto ma oggi una certezza c'è la Juve è tornata è tornata sul calciomercato acquisti esplosivi una cosa molto importante forse si è chiusa la telenovela più difficile quella con l'Atalanta su Cop Minersi ma l'accordo ormai è stato raggiunto e lo possiamo dire Cop Minersi sarà un nuovo giocatore della Juventus domani per le assiste mediche sarò presente per regalarvi a voi le migliori immagini amici bianconeri fatevi una promessa lasciate un like se questo contenuto è stato di vostro credimento poi mi raccomando commentate fatemi sapere la vostra fino alla fine forza io vendo si io me ne voglio ossa benedica a tutti picciotti ciao ciao